un saluto agli amici della casa di milano oggi abbiamo fatto chiave contro il comando per fiat 500 l vediamo se funziona apriamo chiudiamo ottimus riapriamo vediamo se va il motore alla grande ottimus perfetto chiave 500 l fatta chiudiamo milano casa della chiave number one la no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.